Gli uomini della protezione civile ci stanno facendo allontanare, la situazione è drammatica in questo momento qui a Maierato, sta venendo giù l'intero costone, dobbiamo allontanarci noi stessi, l'emergenza è ormai al massimo, si sono evacuate, continuano a dirci che dobbiamo spostarci perché il rischio è che anche i tradici della corrente vengano giù. Sono immagini drammatiche che in presa diretta vi stiamo offrendo, la collina qui a Maierato sta letteralmente venendo giù, c'è la necessità di evacuare, la situazione di pericolo peggiora di minuto in minuto. Stiamo assistendo a qualcosa di incredibile. E' sconvolgente, un'intera collina sta venendo giù davanti ai nostri occhi, è qualcosa di incredibile, di drammatico. Madonna! E' pazzesco! Incredibile! Correte! 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 Madonna santissima! Guarda come si muove! Ma è rimasto qualcuno dentro! Fuori! Chi c'è? Chi c'è? Via! Fuori di qui! Passete dei pazzi ancora a rimanere! Fuori! 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 Chi c'è? Via! 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 Andiamo dentro! Andiamo dentro! Andiamo dentro! Andiamo dentro! Qua, 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 fuori! Io sono sulla banca, io sono sulla banca, fate sgonderare il gioco della zona della banca! Ragazzi! Sgonderate dalla zona della banca!